Allora, fai una presentazione quella che è Monica. Eccoci qui finalmente alla puntata del Grand Canyon Reason Session. Finalmente verrete a contatto con delle creature inestimabili. Catapultati in una realtà al di fuori dal normale, con visioni allucinogeni e mio papà mi procura le droghe, stasera se volete lo chiamo. Blah, 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 sai? Blah, blah, blah. Abbiamo scoperto che ne lo iuta, sono tutti simpaticissimi, guardate questo treno qua di fianco. Sono tutti amichevoli, è bellissimo lo iuta. Tutti in iuta, non è in California. Tutti in iuta. Ci piace lo iuta in poche parole. Degli la verità, perché ci ha salutato lui? Ci ha salutato, la verità sarebbe davvero... Eh, dillela perché bisogna essere onesti. La verità è che loro due le hanno fatto vedere le tette. Evviva lo iuta! L'acido che mi hai dato è fortissimo. Ti piace? Senti come continua a suonare? Ti ho detta, sei tu che lo senti adesso. Vedi i pipistrelli? Davvero? Che cazzo mi hai dato? Dobbiamo fare due righe di cocaina allora. Una delle cose fondamentali dello iuta è che anche qui in iuta c'è un buon motivo per alzarsi in piedi. Perché se potete vedere questi pali della luce lungo la strada, stanno in piedi, cioè stand up. Sì! Dall'Arizona fino a Nevada, attraversando tutto lo iuta. E anche questo è un buon motivo per alzarsi in piedi. E' per questo che stiamo passando nell'aiuta. E anche questo è un buon motivo per alzarsi in piedi. Eccoci qui, quello è Vermillion Clift, dove hanno girato molti molti film dagli indiani, contro i cowboy. Abbiamo fatto circa 600 km di deserto per venire qui a vedere quella strada del Grand Canyon, quella famosa strada che vedete in tutti i film, in tutti i video, per farvi vedere come Mickey adesso fa esplodere il brufolo del nostro operatore. Sì! Che schifo! Ma perché? Beh, 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 voglio tornare alla scuola. Arriva, rabbit arriva. Rabbit! Ug Uno sera le patatine, Julio. I'm ok, I'm finished Benvenuti nel Grand Canyon Quella è la famosa strada Sì, americana Lunghissima che vedete in tutti i film Viva il Grand Canyon Viva il Grand Canyon Dai, fai una roba che fa ridere Vuoi che faccia la ruota, il Grand Canyon? Oh, ecco, ecco Eh, quella è verticale, dai La verticale non riesco a farla La ruota invece se riuscite a farla bene, eh Vuoi una cosa filosofica? Bravo, oh Il rispetto Puoi sì comportarti come vuoi Ma sempre nel rispetto delle persone Adesso te lo dimostro Se io lancio dei sassi a delle persone Questo non è rispettare loro Dai, fammi vedere, dai, come quello che sarebbe sbagliato Io sono un anticristo Io sono anarchista Non sei lo che chiedo Sei come ottenerlo Chiedo destrozar An qualchiera Io Bene? Ok, allora Good luck No, dai Chiuso filosofica Chiuso filosofica Siate sereni con voi stessi Ma che cazzo vuol dire? Chiusa